Purtroppo è vero, la criminalità giovanile è un fenomeno che ci pone molta attenzione, è in aumento e i dati a livello nazionale sono preoccupanti. La criminalità giovanile si evidenzia con vari comportamenti, quindi naturalmente sono atti criminosi anche quelli che avvengono nella realtà digitale e oggi giorno internet occupa gran parte delle giornate dei nostri ragazzi, tuttavia l'aspetto importante che dobbiamo sempre segnalare è che si possono fare delle azioni anche di prevenzione e di intervento laddove si trovano delle condizioni di disagio giovanile. Gli adulti in qualche modo devono fungere da esempio perché i ragazzi emulano in qualche modo anche i comportamenti degli adulti, quindi la responsabilità è trasversale, i nostri giovani ci osservano e quindi noi adulti per primi dobbiamo essere in grado di avere quel comportamento corretto che in qualche modo possa fungere da guida. Il comportamento del disagio giovanile non va trascurato in nessuna sua forma, naturalmente ci sono sempre dei segnali che si possono riconoscere a patto che ci sia una capacità di osservarsi e di parlare e di comunicare all'interno ad esempio della famiglia. La scuola stessa è ormai preparata anche a rilevare i segnali dei ragazzi e quindi un buon dialogo tra scuola, famiglia, agenzie educative può in qualche modo tutelare la salute mentale dei nostri giovani. Un ragazzo che pensa al suicidio può essere spinto per tante cause. Non ci dimentichiamo che il mondo del web, anche il mondo del dark web, quindi il web più sommerso, può dare degli esempi veramente devastanti di come affrontare determinate problematiche ma soprattutto può ingannare i giovani a intraprendere dei giochi oppure delle sfide, le famose challenge che portano a casi di morte anche per errori di gestione comportamentali. Non per ultimo sono di recenti nelle cronache le challenge, le sfide che giovani ragazzi hanno purtroppo attuato con esiti drammatici che possono riguardare la perdita di peso oppure altri tipi di comportamenti rischiosi. Quindi il mondo del web non va demonizzato perché può aiutare in questo momento anche che abbiamo superato del covid, ha fatto sì che i ragazzi nelle piazze virtuali potessero condividere dei momenti anche ludici e importanti. Tuttavia i ragazzi non possono navigare da soli in piena autonomia a patto che non dimostrino la consapevolezza di aver acquisito le informazioni necessarie per tutelarsi dai rischi del web che i genitori e gli adulti devono in qualche modo far conoscere. Da molti anni fortunatamente anche grazie a direttive nate dal ministero dell'istruzione sono sempre più in aumento la figura di professionisti della salute mentale, psicologi e psicoterapeuti all'interno anche delle scuole. La funzione in certi casi è appunto mediatrice, quindi aiutare in qualche modo un collegamento con le famiglie e cercare di intuire e di carpire i disagi giovanili per poter dare delle informazioni tecniche e pratiche anche da trasferire ai genitori in modo da poter educare e tutelare i propri figli.